Dopo le diverse segnalazioni arrivate nelle scorse settimane ci troviamo nuovamente in Via della Libertà a Bottega per il cattivo stato di degrado in cui versa la zona dei rifiuti e come le diverse segnalazioni hanno puntualizzato questo problema. Un'area in cui è presente una scuola elementare e in cui sorgerà il nuovo teatro. Noi siamo tornati nuovamente qui per vedere se le problematiche sollevate dai cittadini e segnalate anche da noi sono state risolte oppure no. Nelle immagini che potete vedere erano presenti calcinacci, pezzi di motore ma anche stendini di plastica e altri oggetti che non erano stati depositati negli appositi bidoni. Ad oggi la situazione è leggermente migliorata, infatti le segnalazioni anche da parte nostra hanno avuto il loro risultato. Come potete notare non sono più presenti pezzi di motore, non sono più presenti stendini o altri oggetti che erano stati lasciati a fianco dei bidoni. Però ancora sono numerosi i rifiuti anche presenti lungo i canneti come i calcinacci, calcinacci che erano stati segnalati ma che non sono stati rimossi. Un degrado che sta piano piano migliorando ma che è causato da un'inciviltà di una piccola parte dei cittadini di Vallefoglia. Noi come Rossini TV attraverso queste segnalazioni che riportiamo cerchiamo di sensibilizzare quella piccola parte di cittadini del territorio. La gente bisogna che sia un po' più educata, nel senso che se sono insufficienti i bidoni dell'immondizia se ne mettono altri. Ma se sono sufficienti non si lasciano lavatoviglie, lavatrici, armade, tutto fuori lungo i fossi. È una follia assoluta. Noi abbiamo detto più volte anche di ampliare le isole ecologiche, di mettere un po' più bidoni, insomma di fare in modo che ci sia una raccolta differenziata. Meno robe vanno in discarica o negli altri strumenti tecnologici per il trattamento dei rifiuti, e meglio è, più si recupera e meglio è, quindi a fare una raccolta differenziata siamo sul 70-80%, ormai diciamo gran parte dei rifiuti vengono recuperati, quindi buona educazione e senso civico.